Dopo la sconfitta bruciante di Domenica in casa contro il Profavara, la Nissa scenderà in campo Domenica al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, per affrontare i padroni di casa della Mazzarese. I biancoscudati hanno giocato una buona gara contro la formazione favarese, avendo tante buone occasioni ma non riuscendo a finalizzare in porta. Da analizzare anche il calo dei minuti finali dove sono arrivate le ultime due sconfitte interne contro l'Akragas e il Profavara. Dunque, gli uomini di Alessio Sferrazza vorranno dire la loro in un match alquando ostico e difficile, contro una squadra reduce dal derby contro il Mazzara pareggiato a reti inviolate. Intanto, causa maltempo, la Nissa è stata costretta a rinviare l'amichevole che doveva disputarsi giovedì al Tomaselli contro la rappresentativa regionale Juniores Sicilia. Eccellenza, Gironea, ventunesima giornata. Cus Palermo, Resuttana. Castellammare, Mazzara. Parmonval, Oratorio San Ciro e Giorgio. Akragas, Sciacca. Enna, Don Carlo Misilmeri. Nuova città di Gela, Leonfortese. Profavara, Casteldaccia. Mazzarese, Nissa. Mazzarese, Nissa. Mazzarese, Nissa. Mazzarese, Nissa.